Il Marsala Fine D.O.P. delle Cantine Alagna. Un vino licoroso affinato per almeno un anno in grandi botti di rovere, utilizzando il metodo perpetuo, è prodotto dalle uve Grillo, Inzolia e Catarratto, coltivate direttamente nei terreni della famiglia Alagna. Il Marsala è la prima ad hoc in Italia ed il prodotto più commercializzato sul territorio. Il Marsala Fine delle Cantine Alagna ha un colore ambrato carico e scuro, profumi aromatici e rotondi tipici del processo di barricamento, un sapore leggermente dolce con retrogusti di cacao e legno tostato che derivano dal suo affinamento nelle bocche. Essendo un dessert wine, è perfettamente abbinabile con tutti i biscotti a pasta friabile, come quelli della tradizione siciliana. Ha inoltre un'estrema versatilità in campo culinario. Ha una lunga conservabilità grazie alla sua elevata creazione alcolica. Passiamo a 30 minuti. La bottiglia è reglazione a rajevo. Passiamo a 31 minuti a 30 minuti, progetti �롕